Sono vicini di casa e amici da sempre. Ci vogliamo bene, ci fidiamo l'uno dell'altra. Hanno relazioni instabili. Tanto romperò presto con lei. Sul serio, di già. E nonostante i pessimi esempi? Eh, danni da mangiare. Ho portato il biberon, perché non glielo dico? Ok, glielo do io. Hanno un desiderio in comune. Io voglio averli, e tu? È un'idea. Volete avere un figlio, ma senza tutti i problemi del matrimonio? Sì, per me non fa una piega. È così eccitante. Sono messi male. Per il ciclo Funny Friday, Friends with Kids. Venerdì in prima serata, sulla 5.